Sono ambiziosi gli obiettivi dei promotori del progetto Keramos, ricostruire gli utensili del passato per favorire l'integrazione e nuovi posti di lavoro. In sostanza realizzare un percorso di impresa sostenibile, capace di coniugare l'aspetto tecnologico e competitivo con quello creativo e solidale, in cui giovani e meno giovani in cerca di occupazione provenienti da diverse realtà culturali, sociali e con abilità altre, possano sviluppare e valorizzare con il supporto di professionisti le proprie capacità e competenze. Il progetto Keramos è il frutto di una rete sociale evoluta che ha un duplice scopo, dall'altro quello di creare occupazione, dall'altro invece quello di creare un cambiamento culturale attorno al problema della disabilità e dell'educazione. Ci sono tantissime partner impegnate in questo progetto, speriamo tra qualche anno di raccogliere frutti con la creazione di una prima start-up dedicata alla creazione di prodotti di ceramica antica. Noi siamo ben lieti di poter partecipare a questa attività, questa iniziativa, questa iniziativa che oserei dire sistemica. Lo facciamo come Adi, abbiamo dato il contributo, il contributo in termini di patrocinio, e daremo il nostro contributo anche nel workshop che nella fine dell'iniziativa, quindi tra aprile e maggio, vedrà tutti i partecipanti a questo workshop misurarsi ad un tema di innovazione legato al design. Questo progetto chiamato Keramos, proprio per ricordare il dio della ceramica, è stato portato avanti perché riteniamo che Gela si debba riappropriare della propria identità culturale e artistica. Gela è stata l'inizio della ceramica in Sicilia, altre città ne hanno fatto la fortuna. Noi ora proviamo a recuperare, a riprenderci la nostra identità facendo ceramica, tenendo d'occhio tutto quello che è stato fatto nei periodi precedenti, a partire dal mondo greco e passando attraverso il periodo medievale, per arrivare appunto a fare impresa. Penso che abbiamo trovato la sinergia, forse della magia della ceramica. Penso che insieme possiamo sviluppare, prima sviluppare una ceramica moderna di Gela e anche trovare la tecnica antica di come si faceva questa ceramica greca.